Buongiorno cari amici, sono Alan, preziosa creatura, e non mai, mai, mai più amici e o non, nel senso ora so, e se so, so che chiunque legge le nostre lettere si farà il segno della croce. Bene, benedette creature, noi con oggi, 21 aprile, apriremo nuove prospettive in ogni dove. Voi direte, com'è e quando? Quando non lo possiamo dire, ma come sì? Sì, 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 vi faremo sognare ad occhi aperti. Sapete com'è? Vi sguagneremo cose e o cani ovunque. Mi spiego, vi facciamo vedere e o sentire cose totalmente nuove, nel senso, mai, e se dico mai, dico mai, nessuno ha potuto spiegare mai cose così belle. Vero, Fio? Allora, 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 no. Ma da subito incominciamo a dirvi che ogni cosa è illusione. E questo vuol del cerchio, e o meno, ormai lo sapete. Ma cosa ancora nessuno sa, è che lo spirito infonde ad ogni creatura anche la più beccia delle azioni. Mi spiego. Sapete il perché si dice Satana e o diavolo? Satana, diavolo, ogni giorno mi elevo, tramite la sapienza nascosta. La sapienza viene nascosta, per poi poterla urlare ai tuoi mondi. Nel senso, se non sai che Dio ogni cosa ha creato, lo devi sapere, per poi capire, per poi sentire. Ecco che le azioni più belle in assoluto vengono dal cuore. E il cuore non lo comandi. Già, amici, quante volte avete sentito questa frase, vero? Già, l'individuo la mette dove vuole lui, e o lei. Ma l'azione che viene dal cuore non la si mette. Va, e basta così. Senza che nemmeno tu te ne accorga. Va bene ogni cosa che voi fate. Dal primo all'ultimo. Avete udito bene? Ogni azione mossa dall'individuo è creazione. Ecco, perché si dice, Dio ogni cosa ha creato. Uno che legge e intende ciò per la prima volta, cosa può pensare? Ma questo Dio è un volgare individuo? Pardon, essenza? Sapete perché Dio è pura essenza? Dio ogni cosa ha creato. E di conseguenza ogni cosa purificata diventa essenza. Essenza è olio, vero amici? Olio. Quante volte avete sentito la frase, l'unto del Signore. Vero amici? Ebbene sì, ogni creatura purificata in Dio è Dio, senza ombra di dubbio. Allora uno dice, ma allora siamo tutti Dio? No, 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 la stirpe di Davide ha sette vite, voi soltanto tre. Che i numeri contati da voi significa? L'essenza ha impiegato ben 3500 anni, perdon vita, per arrivare a se stesso, oppure a Dio. Voi, creature minerali, naturali e animali, ci impiegate 350 anni. Che lo vite. Cosa significa in realtà? Che i vostri tempi sono 10 volte inferiori a questa creatura. Ora oggi ve la vogliamo svelare, una volta per te, Fio, io per tutti, ma proprio tutti, tutti, noi e voi. State attenti se la incontrate. Ella è in grado di riconoscere tutto, ma proprio tutto, 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 di ognuno di voi. E se ella parla e o sparla, non fallisce mai. Cosa dite? Vi fa paura? No, no, no. A coloro che non temono nulla, nulla temono, ma per altri saranno cavoli amari. Amen no, ma alleluia sì. Arrivederci a presto. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie a tutti